ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono salvatore palomba e oggi faremo il tear down di un videotelefono appartenente alla generazione dei modelli intermedi ovvero di un urmet nmu 70 17 87 ovvero la colorazione antracite questo tear down ovviamente vale anche per tutti i videotelefoni della fase standard e anche per gli urmet blu essendo comunque telefoni uguali che venivano appunto prodotti sotto varie appunto sotto versioni scusa il gioco di parole e ovviamente i pezzi sono sempre quelli questo qui è un telefono appunto che comprai in realtà non era nuovo era pure un problema alle melodie e cioè che quando le riproduceva si riavviava senza alcun motivo comunque alla fine poi è durato un giorno anzi neanche di conseguenza lo utilizzerò per il tear down io già ho tolto alcune viti per tranne quelle dello schermo ovviamente che altrimenti se ne cade appunto per per facilitarmi il lavoro questo video lo vorrei fare come seconda parte diciamo del tear down dei videotelefoni che ho fatto il 30 dicembre 30 31 comunque dicembre del 2020 dove appunto non avendo ancora modelli intermedi non funzionanti non ovviamente non ne ho aperto nessuno oggi ne abbiamo uno non funzionante questo se lo collegate nemmeno cioè se proprio fate tutti i collegamenti all'interno lo collegate nemmeno si accende quindi visto che ne abbiamo uno non funzionante facciamo appunto il tear down appunto di un modello intermedio quindi di questo bellissimo urmet o meglio di quello che ne rimane allora ovviamente ho tolto già la cornetta perché ovviamente dico la cornetta la conosciamo tutti poi ovviamente non si può non si può smontare quella almeno non senza distruggere tipo un cacciavite però diciamo è semplicemente un altoparlantino un microfono all'interno di una scocca grigia quindi non c'è molto da vedere invece quello che appunto andremo a vedere è quello di appunto lo schermo la telecamera quindi farò un tear down cerco di fare il tear down il più completo possibile allora per prima cosa abbassiamo lo schermo perché altrimenti mi fa leva e si distrugge tutto ovviamente allora andiamo appunto quindi quindi tolgo il retro scocca ovviamente le viti sono già tolte quindi tolgo il retro scocca questo non ci serve però ve lo faccio vedere appunto abbiamo questi piccoli adesivi che servono in qualche modo ad accogliere la scheda del modem che entra e ovviamente qua c'è il buco per la cornetta buco per il cavo rg 11 e per l'alimentazione molto basilare diciamo è molto più molto più comodo da togliere rispetto a quello degli altri modelli perché appunto gli altri modelli a differenza di questi hanno la scheda madre proprio abitata qua questo non ce l'ha così ora vedremo perché comunque è molto più facile questo lo togli e lo metti da ecco allora ovviamente qua è tutto staccato ovviamente perché non lo non li ho appunto riattaccati appunto troviamo intanto una bellissima scheda che spero di riuscire a togliere con una mano sola anche se ne dubito fortemente infatti non ci riesco abbiamo appunto una bellissima scheda madre e che è un diciamo non è la scheda madre vera e propria del videotelefono proprio per questo appunto il reato scocca non ce l'ha avvitata questa non è la scheda madre del videotelefono con appunto il software eccetera eccetera questa scheda madre contiene in questo chip qua dovrebbe essere questo o quel no credo questo credo dovrebbe contenere appunto il firmware quindi fermo 137 138 oppure 1.41 e poi abbiamo appunto un componente che mi diceva Alessandro che questo è della NEC però credo che sia diciamo il relè di linea che tipo scatta quando il telefono passa in modalità dial up o in modalità telefono normale quindi dial up per fare le videochiamate e telefono normale appunto per fare il telefono normale pure io che stupidaggine dico poi questa dovrebbe essere una presa per il debug anche se non so o una presa di collegamento non ne ho idea io non me ne intendo di hardware quindi credo sia una presa di collegamento probabilmente una porta seriale comunque poi questo qua appunto è la levetta della cornetta ovviamente quando la cornetta viene chiusa questo si abbassa e tocca così anche in questo caso tocca così la cornetta questa questa levetta quindi così il software capisce che la cornetta è stata abbassata e toglie la schermata di chiamata quando la cornetta si alza questo fa così e quindi compare la scritta numero quindi dove si può appunto comporre per fare una chiamata stessa cosa il telefono capisce grazie a questa sempre se deve attivare o no il via voce quando abbiamo il via voce per attivare via voce e agganciare appena la rete così attiva il via voce poi ovviamente qui abbiamo l'attacco non so come si chiami questo forse reggi 10 non lo so comunque e comunque è per il cavo ricciolino della cornetta e appunto per collegare la cornetta al telefono che appunto passa da questo buco qui e poi si collega questa scheda qua poi abbiamo il buzzer che gli serve appunto per suonare se non c'è linea quindi scusate non sono cellina come fa suonare se non c'è linea se non c'è corrente quindi se non c'è alimentazione elettrica invece di suonare con la melodia polifonica suona con questo e poi qua cosa abbiamo questa è la pre questa è la presa diciamo il connettore dove vanno dove va appunto l'altoparlante che sarebbe questo che ovviamente ha pure un filo di saldato ma ovviamente questo non è il suo altoparlante perché gli urmet hanno l'altoparlante con il filo rosso e nero quindi uno rosso e uno nero questo ce l'entrambi neri perché è un altoparlante di un fasce standard siccome mi giovava il suo altoparlante perché io lo dovevo cambiare io ho preso quello e io ho messo questo comunque l'attacco è questo e sì perché comunque questo telefono ovviamente essendo non funzionante l'ho diciamo ripizzato l'ho rimontato appunto con con dei pezzi che erano mezzi rotti quindi diciamo che funge come contenitore per eventuali pezzi di ricambio perché questo magari se mi dovesse servire lo risaldo e appunto torna funzionante comunque questo è l'attacco appunto questo va collegato qua e appunto il telefono può suonare sia in via voce melodie musica d'attesa eccetera poi questa presa qua questo questo connettore qua e il connettore per la tastiera questo è appunto poi lo vedremo bene la tastiera la vedremo bene questo appunto è il connettore si collega appunto a questa scheda si mette qua poi questo è il connettore vero e proprio dove appunto va la scheda dello schermo che a differenza degli altri modelli però non è soltanto scheda dello schermo quindi questo non serve semplicemente a far funzionare diciamo come come i flessibili degli altri telefoni a far funzionare schermo e telecamera semplicemente sono stati molto bravi devo dire perché hanno fatto un diciamo hanno fatto un progetto abbastanza carino infatti i modelli intermedi hanno il software quindi il chip nende l'impostazione eccetera eccetera lo salvano nella scheda dello schermo questa scheda madre infatti dà soltanto l'alimentazione e la versione firmware basta non c'è nessuna non c'è nessun chip all'interno che salva le impostazioni c'è tutto è qua dentro di conseguenza con questo con questo e con questo cavetto quando si collega questo si collega qui questo appunto si collega in questa parte qua il telefono appunto carica il software che c'è qua dentro e ovviamente con questa con questa scheda madre ottiene versione firmware e il modem perché questa è una scheda di modem per la dial app per aggiornare software per mandare mms e fare videochiamate eccetera eccetera certamente tutto dipende dalla versione del software quindi se è aggiornato la 214 manda pure mms altrimenti soltanto videochiamate e aggiornamenti poi è questo questo che c'è in tutti i telefoni negli i tele grigio chiaro mentre invece in quale mentre invece nei modelli intermedi è appunto è nero e appunto il cavo rosso e nero questo è il microfono appunto che serve appunto per funzionare in via voce quindi per registrare in via voce e poi ovviamente nella 214 con l'aggiunta degli strumenti multimediali registratore audio registratore video servirà anche in futuro per registrare audio e registrare video il telefono usa questo adesso andiamo appunto a smontare la scheda dello schermo che è un'impresa titanica no non è un'impresa titanica forse con una mano sì quindi lo farò lo farò off camera quindi ho smontato o diciamo ho tolto appunto le ho svitato le viti quindi ora dobbiamo togliere questo blocco che appunto serve per non far questo blocco qua serve per non far uscire diciamo lo schermo dalla sua sede quindi quando voi immaginatevelo quando voi lo tirate su se questo non ci fosse lo schermo vi rimarrebbe praticamente nelle mani questo e questo serve inoltre anche a non far uscire lo schermo dal suo blocco mi spiego meglio lo tolgo questo come potete vedere c'è questo questo appunto una volta arrivato qua se non ci fosse quel blocco che questo cosa che ho appena tolto questo arrivato qua torna diciamo sì diciamo si potrebbe spostare di conseguenza lo schermo vi rimarrebbe anche in questo caso nelle mani quindi appunto adesso dobbiamo andare a rimuovere questo quindi ora io lo rimuovo sempre off camera quindi ho rimosso appunto il blocco e ovviamente lo schermo è uscito e mi è rimasto nelle mani di conseguenza l'ho smontato però questo lo vedremo per ultimo intanto appunto vediamo quindi questa era come dicevo la levetta della cornetta l'altoparlante che appunto non riesco a togliere aspettate ok appunto che ho l'altoparlante appunto che ho tolto di conseguenza questo appunto è la capsula e qua ci sono appunto le diciamo i fili per il collegamento quindi il suono esce da qui questo è la questa appunto è la sede dell'altoparlante poi vediamo un po' cosa possiamo togliere più togliamo questo aspettate ok questo è il microfono appunto sempre cavo di collegamento saldature e microfono vero e proprio adesso appunto andiamo a togliere adesso andiamo appunto a togliere il blocco e appunto togliamo la tastiera quindi togliamo appunto il blocco questo appunto è il blocco all'interno che appunto permette il passaggio dello schermo e appunto tiene ferma la tastiera perché se non ci fosse questo alla pressione del tasto la tastiera farebbe così quindi togliamola questa è la tastiera dei modelli intermedi appunto abbiamo il tasto video la tastiera la conosciamo tutti allora abbiamo appunto ora vado appunto a smontarla e quindi vado a toglierli in qualche modo la cioè vado a togliere i tasti e vediamo come è fatto all'interno ok ho appunto svitato tutte le viti quindi dovrebbe adesso venire via se non vado errato ok ok allora questa appunto è la prima parte della tastiera del videotelefono quindi la parte diciamo dove ci sono i vari le varie indicazioni e appunto il diciamo i solchi per i tasti vediamo anche dal retro che appunto non è colorata e plastica diciamo ovviamente questa parte non dovrà essere vista dall'utente quindi l'importante era colorare questa poi cosa abbiamo qui abbiamo ovviamente i tasti che appunto hanno si è smontato il tasto 1 abbiamo appunto i tasti che appunto hanno le vedete queste palline nere che appunto servono a fargli fare contatto alla pressione del tasto questo si muove e appunto il software capisce quale tasto è stato effettivamente premuto aspettate se riesco a rimontare il tasto 1 lo stavo lo sto rimontando pure del contrario aspettate ok ok quindi abbiamo rimontato appunto il tasto 1 e meno male poi appunto quindi abbiamo questo è scritto con tanto di logo urmett urmett tlc e appunto abbiamo i vari tasti che sono appunto non sono tutti insieme non è un pezzo unico sono tutti i tasti separati è bello che fanno ancora tac bellissimo ok quindi poi vediamo appunto la tastiera la tastiera abbiamo il logo urmett tlc poi tutte le varie diciamo i vari circuiti che servono appunto a far capire al telefono quale tasto è stato effettivamente premuto qua dietro c'è il cavetto per il collegamento alla scheda madre dopo aver praticamente smembrato il telefono scheda dello schermo anche conosciuta come scheda del chip nando ovviamente per togliere questa mascherina siccome non è come gli itel non è come gli altri telefoni che sono le viti e a incastro devo fare appunto devo utilizzare due mani quindi devo fare leva con il cacciavite per togliere la mascherina quindi mi perdonerete un secondo arrivo subito questa è appunto la mascherina e appunto ha lo spazio per la telecamera e lo spazio per lo schermo poi abbiamo appunto il copri copri telecamera questo è il copri telecamera questo si metteva sulla telecamera e faceva quell'effetto grigio appunto che si vede nei telefoni questo per intenderci questo qui abbiamo già appurato che questo telefono ha visto giorni migliori comunque sono riuscito a smontarlo però ovviamente ve l'ho già detto di nuovo lo ripeto è durato un mese cioè non un mese è durato un giorno manco neanche perché l'ho comprato che era pomeriggio e tipo la sera già percorso già va sto problema poi con l'attivante elettrico le cose non ha funzionato più comunque purtroppo è finita così per questo telefono quindi ora gli facciamo il tear down quindi questa è la parte appunto questa parte qua e diciamo che ospita lo schermo lo schermo è incastonato qua dentro e qua c'è il buchino per la telecamera quindi tutto questo è montato tutto questo diciamo in quest'unica in quest'unica scocca dopodiché abbiamo appunto quella che si è riuscito a scollare la protezione dello schermo che appunto impedisce che lo schermo diciamo venga corroso in qualche modo da gente atmosferici questa ce la vanno tutti i due telefoni dei modelli intermedi in poi è semplicemente un pezzo di plastica poi abbiamo quindi lo schermo vero e proprio che credo che questo non si accenda più però comunque abbiamo lo schermo vero e proprio che questo qua è uno schermetto abbastanza abbastanza funzionale e devo dire abbastanza anche resistente perché sappiamo bene gli schermi dei modelli intermedi sono molto difficili che si rompano qua abbiamo appunto il cavo di collegamento che si collega che appunto si collega in questa parte qua qua esattamente qua quindi questo appunto è lo schermino poi il cavo ovviamente appunto che porta la corrente quindi permette anche tutti i chip che non so se è tipo questo il chip di che appunto che contiene il software non lo so o se è questo non ne ho la più pari l'idea vediamo vediamo se riusciamo a leggere qualcosa vediamo se riesco a mettere a fuoco epson questa è della epson e questa è della intel non ne ho idea ragazzi quale sia il chip che ne vedrà a questi comunque ora faccio vedere anche fronte e retro quindi questo appunto vari chip e la telecamerina appunto è rimasta attaccata anche col fetto arancione poi abbiamo quest'altro non ho idea questo cosa sia forse il processore un altro chip condensatori vari il lettore per le schede sim che appunto nei modelli intermedi era nello schermo perché questo appunto è come se fosse la scheda madre del videotelefono questa è la mini scheda madre che era appunto all'interno dello schermo con NAND, software, impostazione, tutto se volete cambiare il software dovete cambiare questa e appunto poi abbiamo appunto la parte la mascherina diciamo anteriore ovvero appunto quella mascherina che ovviamente qua ha le cose diciamo gli adesivi per non far usare la scheda madre e poi qua abbiamo la porta per credo sia una gtag non ho idea comunque qua c'è un'altra porta qua in su non so se riesco a inquadrare correttamente comunque e poi appunto quindi questo era il tappetto antipolvere poi appunto qua abbiamo la scheda dello schermo cioè la guida per il blocco dello schermo bene ragazzi io vi ringrazio per la visione è stato un piacere per me fare questo video quindi possiamo completare il touchdown di modelli intermedi e noi ci vediamo appunto alla prossima ciao a tutti ragazzi grazie a tutti